Non è la prima volta che vengo a pulire delle cose in giro per Roma, l'ho fatto con l'Egambiente, conosco tante persone che lo fanno con i multi-gruppi scout della città, questa volta l'abbiamo fatto con il Partito Democratico, Castel Sant'Angelo è un posto che secondo me ha un forte valore simbolico perché intanto è il terzo monumento che ho visitato d'Italia, mi pare, perché spesso l'agenzia lo mettono in coppia col Vaticano, ma per noi abitanti di questa enorme zona che prende 60.000 abitanti e fa prati trionfali e borgo è praticamente l'unico spazio verde di una certa grandezza. Beh, diciamo, io penso che questo sia un dovere proprio come cittadini perché comunque questo è l'ambiente dove viviamo, è importante che sia pulito, credo sia opportuno prendersi questa responsabilità e cercare di renderlo più vivibile per tutti. Certo, più pulito, noi portiamo spesso il cane ed è generalmente molto sporco, tant'è vero che quando arrivo a casa devo lavarlo, non è possibile, oggi la vedo pulita. A me piacciono le manifestazioni creative, se si riuscisse a uscire dal pollaio della politica e far diventare tutto quanto una gara d'emulazione sarebbe fantastico, ognuno cercherà di far meglio degli altri e quindi i cittadini romani sarebbero felici.